In due giorni ha subito due furti e è accaduto ad un'anziana padovana. Il suo appartamento in via San Camillo dell'Ellis, in zona Forcellini, era stato svaliggiato per ben due volte, sempre dallo stesso ladro. Ieri mattina, durante l'ultimo furto, però il ladro maldestro ha tentato la fuga dal cornicione precipitando dal terzo piano. Un volo che gli è costato solo qualche botta e l'arresto immediato. Lui, ventenne filippino, infatti è precipitato proprio sotto gli occhi dei carabinieri che erano stati chiamati da una vicina di casa dell'anziana che aveva notato il ragazzo camminare pericolosamente in bilico dal cornicione. Quando si è rialzato, si è trovato faccia a faccia con i militari. Nelle tasche aveva alcuni gioielli che aveva appena rubato all'ottantunenne e la corda usata per arrampicarsi fino al terzo piano. L'anziana, rientrata in casa, ha trovato il vetro rotto, una scena simile a quella vissuta 24 ore prima, quando rincasando aveva trovato la casa a suo quadro e l'argenteria scomparsa. Argenteria che i carabinieri hanno trovato a casa del filippino che abita solo qualche civico più in là dell'anziana e che il giorno dopo era tornato di nuovo lì per finire il lavoro. Il ladro, dopo le medicazioni, in pronto soccorso è finito in cella.